www.feyyaz.tv 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 Sopra e sotto con le braccia e con le cibo la gamba, sulle mani. Tieni alte le braccia, Ale però, tieni alte le braccia sempre. Buono, va bene. A tenerino subito, non di chiudere, Ale. Tagli il fastidio, bravissimo. Mettilo lì. Subito col destro lì. Mettilo, Ale, dritto. Mettilo qua. Diretto destro, Ale. Brava, e finisci con la gamba. Fatti sentire, bravo, con le braccia. Tu mi dà, Ale. E fatti finisci con la gamba. Bravi, Ale, c'è un tazzupo ancora, eh. Vi entra, non aspettarlo, Ale. Fatti sentire con quelle braccia. Non ti chiudere. Su. Bravo. Con le braccia fatti sentire. Cinque secondi. Le sente tutte, Ale. a te. E hai? Un pate. Un pate. Un pate. Un pate. Alza le mani, posi e gamba, eccolo lì, bravo, ancora un'azione così, prendi il tempo e vai dentro, bravo, sulle mani, sulle mani. Tieni su quelle braccia, bravo, bravo, bravissimo, bello, sulle mani, tieni tu in centro, prendi il tempo, c'è gamba, un minuto Ale, reattivo sulle gambe, non stagli fermo davanti, bravo, dai, tieni su quelle braccia, da lì parti, dal movimento parti, sulle mani, posi, sulle mani, 30 secondi, gamba lì, Allora, sparo glielo alto, uno, 30 secondi, sulle mani alte, morbido sulle gambe, mani alte, appena lì lì, appena lì lì, appena lì lì, appena lì lì, ecco lo, su, appena lì lì lì, sono, appena lì, non lo sentiate, alle loro sentiate. Penso che lui aumenta, non farli fregare. Vai! Subito il turno, non andare indietro, così, stai dentro, chiudi, così, attento, prendere colpi stupidi. Sulle mani, appena arriva adesso, arriva, 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 vittilo, eccolo lì, bravo, 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 mandalo via, bravissimo, sulle mani mobile, non stagli il fermo davanti, bravo, sulle mani, sulle mani mobile, appena arriva lì, sulle mani morti, eccolo lì. Quando viene lui, li metti in destro, un minuto, vieni su quelle mani, vieni lì, bravo, mani alte, non cercarlo Ale, lascia venire lui, 45, vai, Nobile, appena arriva, appena arriva Ale, appena arriva, sulle mani, passa dentro, bravo, attento, 30 secondi, 30, via da lì, mi stai addormentando Ale, concentrato. Non cercarlo, non cercarlo, aspetta, 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 che arriva. Tira via, non cercarlo, ok. 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 Grazie a tutti